Nella giornata del 20 marzo 2021 si è tenuta al castello Angelo Aragonese la giornata della memoria e della lettura dei nomi delle vittime innocenti delle mafie, organizzata dal Costituendo Presidio Libera di Agropoli, intitolato al tenente Marco Pittoni, morto a Pagani il 6 giugno 2008. L'evento, trasmesso in diretta sulla piattaforma streaming di Twitch, ha riscosso un grande successo. Ha visto la presenza del sindaco di Agropoli, Adamo Coppola, del consigliere comunale delegato da cultura Francesco Crispino e in rappresentanza della compagnia Carabinieri di Agropoli, il maresciallo Angelo Perillo. A sostegno dell'iniziativa, la prologo di Agropoli con il presidente Aldo Livieri e il rappresentante di Lega Ambiente Sor Chiara Adriano Guida. Il capitano della Guardia di Finanza Sannino ha colto con entusiasmo e stima le finalità dell'associazione, facendo pervenire un messaggio di vicinanza. Non sono mancati i saluti della professoressa del liceo Alfonso Gatto di Agropoli, Luciana Ferrari, e del professore, nonché vicepreside, Angelo Mantione, che hanno enfatizzato l'importanza della cultura e della formazione scolastica per comprendere al meglio le tematiche della mafia. La manifestazione è stata presentata dalla socia fondatrice di Libera Agropoli, Rosa Matucci, delegata dalla referente Teresa Donofrio. A Matucci ha parlato dello slogan composito, a ricordare e a rivedere le stelle, legato al richiamare al cuore le vittime delle mafie, ma anche a ringraziare le stelle, le persone che si battono per la giustizia e per la legalità. Il Castello di Agropoli rappresenta la sede della cultura, quale strumento fondamentale ed unico per la lotta alle mafie. Il Presidio Libera Agropoli verrà inaugurato solo in estate e sarà indirizzato alla collettività, ai cittadini, ai giovani. Per questo si è scelto di trasmettere in diretta su Twitch l'evento, che ha ricevuto più di 400 visualizzazioni contemporanea. A questo punto non possiamo che auspicare nei futuri eventi lo stesso spirito di adesione e consapevolezza da parte dei consociati. La referente di Libera Agropoli, Teresa Donofrio, ha dichiarato. Per le attività potrei riassumere il nostro operato in una sola parola, impegno. Ci impegneremo a smuovere le coscienze dei cittadini e soprattutto di noi giovani, attraverso la costante e proficua collaborazione con il Liceo Alfonso Gatto. Ci ripromettiamo inoltre di sensibilizzare i ragazzi sulla presenza del fenomeno mafioso nella nostra società, al fine di formare cittadini consapevoli. Borsellino diceva, parlate delle mafie, parlatene alla radio, in televisione, sui giornali, però parlatene. Noi ragazzi ci poniamo proprio tale obiettivo, parlarne. Il miglior posto in cui vivere è dove ci sono cittadini attivi.